Come sapete ormai la Roma è da settimana alla ricerca di un esterno destro di Piedemancino che possa sostituire Salah e possa rendere definitivamente il mercato estivo 2017 completo su ogni reparto. Sono stati fatti tantissimi i nomi su questo reparto, ovviamente il primo di tutti è Marez che attualmente per quelli che non ci sperano più è ancora un nome possibile perché l'esterno non ha rifiutato nessuna offerta e ancora si potrebbe farla fare, o almeno io lo spero con tutto il cuore. Si sono fatti i nomi di Lucas Vázquez, di Ghezzal, di Suso, adesso non ve li faccio tutti perché sennò non finiamo più. Però sono stati fatti tantissimi i nomi perché secondo me Salah è stata la cessione più importante che abbiamo fatto in questo mercato e deve essere sostituito degnamente e io personalmente l'unico giocatore che sostituirei al suo posto è appunto Marez perché è meno veloce ma più tecnico del egiziano, perfetto per il modulo di Di Francesco. Ma tornando sul discorso principale, alcuni giornali hanno messo in giro la notizia qualche giorno fa che il sostituto di Salah potrebbe essere in casa nostra e cioè Sandrino Florenzi. Ma io vi spiego e vi elenco alcuni motivi per il quale secondo me questa è una cagata colossale. Allora, prima di tutto, Florenzi ancora deve rientrare da un grande infortunio e tu non puoi contare su un giocatore che non sa neanche quanto tempo ci vorrà per rivederlo allo stesso livello di quando si era infortunato, prima cosa. Seconda cosa, Florenzi non è assolutamente a livello di Salah, per carità è una nostra possibile bandiera, ci mette la grinta, si impegna a corsa, a sacrificio, però a livello proprio tecnico-tecnico è un'altra cosa rispetto a Salah e quindi già di per sé questa soluzione sarebbe molto dubbiosa. Punto numero due, la Roma in tutto questo mercato ha voluto puntare su un altro esterno offensivo e usare Florenzi come jolly, e cioè un giocatore che può metterlo al centrocampo, esterno d'attacco, terzino a seconda delle esigenze e ha fatto una rossa completa proprio per farlo tornare con la dovuta calma. Vi pare che dopo settimane e settimane che la Roma vuole puntare a un esterno offensivo nuovo e non già in casa, forte, di piede mancino, tecnico eccetera 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 va a puntare su un giocatore che ancora deve rientrare e che è già nella nostra rosa. È una cosa che secondo me è sbagliata perché queste settimane hanno fatto capire che la Roma vuole puntare su altri giocatori e non su Florenzi perché se no l'avrebbero detto subito e ci saremmo concentrati fin da subito sul difensore centrale. Invece la continua ricerca di un esterno offensivo ci fa capire che la Roma serve necessariamente un altro giocatore su quel ruolo. Terzo punto, anche se tra i tre è meno importante, è di piede destro. È vero che negli ultimi giorni la dirigenza comunque si è esposta anche ad un possibile acquisto di piede destro per la fascia destra e quindi un acquisto diverso rispetto alla cessione di Salah però diciamo che secondo me l'obiettivo principale della Roma è di prenderci un mancino perché dall'altra parte hai Perotti ed hai Sharawi di piede destro e si disse a posto. Dall'altra parte hai Cengizunda di sinistra e quindi secondo me il titolare deve essere, almeno secondo me, un giocatore forte tecnicamente, già affermato, di piede sinistro, tecnico, veloce. Per me il profilo perfetto con queste caratteristiche è Marez ma non fa intendetemi, non è che non mi piace Florenzi, non lo voglio, non lo considero eccetera eccetera però da qui a dire che deve essere il nostro titolare sull'altra fascia, al posto di Salah mi sembra veramente una cosa utopistica e diciamo sarebbe difficile sia per noi che per lui perché sarebbe costretto a ritornare ancora una volta più velocemente rispetto ai tempi di recupero rischiamo che lo mettiamo titolare, si rompa un'altra volta e possiamo salutarlo definitivamente come purtroppo abbiamo salutato Peppe Rossi che attualmente è svincolato perché con qualunque squadra è andato se ha almeno rotto un legamento del ginocchio almeno una volta quindi io per me l'opzione più importante e più normale per tutti sarebbe prendere un giocatore forte, aspettare che Florenzi torni a pieno regime dandogli il tempo necessario per recuperare tutta la forma e poi con calma lo inserisci nel gruppo gli fa giocare qualche partita con qualche avversario semplice magari lo metti a centrocampo se ti manca qualcuno lo metti davanti se vuoi far riposare uno tra Perotti e Sharawi ci sono tanti modi per farlo inserire di nuovo nella squadra però farlo inserire così velocemente per prendere l'eredità di un giocatore così forte come Mohamed Salah considerando oltretutto che la Roma ha dimostrato di volere un altro giocatore mi sembra una cosa veramente stupida più che altro mi sembra un discorso veramente inutile fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate di questa possibile responsabilità di Florenzi come sostituto di Salah io ovviamente ci penso veramente poco ma ho voluto comunque fare questo video per sapere la vostra opinione ci vediamo presto per un altro video un saluto e sempre forza Roma ciao ragazzi ciao 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 ciao